Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono DigiR99 e oggi, ancora una volta, si parla di palestra, ormai passa così, calcio, palestra, calcio, palestra, su questo canale, ma il canale è mio quindi posso benissimo farlo. Allora, oggi parlerò di una questione che si possono porre delle persone che possono approcciarsi al mondo della palestra e la domanda a cui risponderò oggi è a che cosa serve andare in palestra? Prima di tutto però faccio una premessa, non tralascio completamente l'estetica, cioè nel senso non affronterò il punto di vista estetico, infatti oggi maglia normalissima, in genere quando parlo di palestra metto sempre una maglia particolare, ma niente, normalissima maglia, perché non è di estetica quello di cui voglio parlare oggi, ma proprio dal punto di vista della salute non solo. Allora, molti dicono, ma diciamo essere grossi e andare in palestra è tanto importante, non è importante essere grossi, allora io sono d'accordissimo, però quando mi dici è tanto importante andare in palestra e poi mi dici non è importante essere grosso, tu mi fai capire che per te la gente vada in palestra solo per diventare grossi. Cosa che in realtà non è affatto così perché secondo me l'estetica non dico che debba essere l'ultima cosa, però quasi, nel senso che molte persone, lo dico per esperienza mia, per esperienza degli altri di cui ho avuto modo di conoscere, la palestra è fondamentale per due cose, al di là, allora, primo, abbastanza intuibile, la salute, la seconda, più per chi è proprio, partecipe a questa attività, la mente, perché ragazzi, fidatevi, che quando un ragazzo va in palestra è per sgombrare la mente, al di là dell'estetica che è molto importante per chi fa palestra e lo sappiamo, al di là della salute che è molto importante e che può essere aggiunta andando in palestra, mangiando bene o facendo altri tipi di allenamenti pure, quello che, la cosa più importante per chi fa palestra è l'aspetto mentale. Facciamo un esempio ragazzi, adesso vi dirò una cosa che non credo sappiate, soprattutto se non siete proprio ferrati in argomento palestra, ma fidatevi che in molti ragazzi la stragrande maggioranza si iscrive in palestra dopo che ha avuto una brusca delusione in tema, in ambito amoroso, le relazioni amorose ragazzi, quando un ragazzo, me lo dirò in modo molto più semplice, senza ci parlo, è quando un ragazzo si lascia, a quando un ragazzo viene spezzato il cuore, va in palestra, così, nella maggior parte dei casi, non è stato il mio caso, non è stato il caso, magari non è stato il tuo caso, magari non è stato il caso del tuo amico, ma ti posso assicurare che è stato il caso di moltissime persone, che conosco e che non conosco, che poi diciamocelo fra di noi, lascia una cosa e ne prende una ancora migliore, perché ragazzi, a un popular opinion, scatenerò un putiferio, la palestra è meglio delle relazioni amorose, ma proprio su un altro livello ragazzi, la palestra non ti spezza il cuore, non ti tradisce, chiudo questa parentesi, torniamo seri, cioè in realtà ero serio quando ho detto quella cosa però, torniamo ancora più seri e parliamo appunto di argomentazioni più nel dettaglio e tralasciamo un attimo questo argomento specifico, parliamo sempre di mente però, perché ragazzi la mente, io per esempio, mettiamo adesso il mio caso, ho parlato di un caso in generale che non è il mio, adesso parliamo del mio caso, io quando vado in palestra dimentico, proprio dimentico tutto il resto del mondo, tutto quello che è fuori dalla palestra, la scuola, quello che devo fare a scuola, gli amici, le preoccupazioni, le cose tristi, dimentico tutto, non penso, quando sono in palestra non penso ad altro che ad allenarmi, e questa è una cosa che accomuna il 99,9999% di chi va in palestra, molto più di quello che ho detto prima sulle relazioni amorose, se prima molti ragazzi vanno in palestra per delusioni amorose, adesso praticamente tutti quando vanno in palestra pensano solo a quello e trovano bella la palestra, non solo perché li fa sentire meglio, non solo perché li tiene in salute, ma anche e soprattutto perché quando vanno in palestra dimenticano tutte le preoccupazioni, tutte le ansie e tutto quello che c'è al di fuori del mondo esterno, tutto quello che c'è al di fuori del mondo esterno, tutto quello che c'è fuori dalla palestra, questo è il motivo principale, ve lo dico proprio sinceramente, questo è il motivo principale per cui vanno in palestra. Fatemi sapere la vostra ragazzi, per quale motivo tu vai in palestra, se ci vai e niente, fammi sapere la tua, ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando mi farebbe piacere se continuate a supportare questo argomento, ci vediamo nel prossimo video comunque.